La borsa con un'importante novità che riguarda i bitcoin, andiamo in diretta a Milano, eccoci Chiara Arancati. Effettivamente riflettori accesi sui bitcoin da ieri sera perché la SEC, l'autorità della borsa americana, ha autorizzato per la prima volta la vendita libera a Wall Street di un titolo derivato, un ETF, proprio sui bitcoin. Vuol dire che lo si potrà comprare, lo potranno comprare tutti gli investitori come un'azione o una parte di un fondo comune. Questo ha spinto a rialzo il valore della criptovaluta che ha superato i 46 mila dollari tante volte ieri, ora torna appena sotto 45.910 ma siamo comunque al 142% in più rispetto a un anno fa.